Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sempre qui al Bike Connection Agency di Girona. Parliamo sempre di gravel e bici da strada, ma in questo caso, per questo prodotto, possiamo parlare anche di mountain bike. Infatti vi presento il nuovo occhiale POC Solar Switch, occhiale davvero molto molto interessante e secondo me all'avanguardia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche inserite all'interno della lente. Abbiamo infatti uno strato LCD posto sopra la lente che lavora in connubio con un micro pannello fotovoltaico e un sensore di luminosità. Questo permette di variare la luminosità e la tinta della lente in modo istantaneo. Non ha bisogno quindi di batterie per farlo funzionare, non è presente nessun bottone su questi occhiali, ma cambiano in modo automatico appunto la luminosità e la tinta della lente in modo istantaneo. Ti sto provando in questo momento e basta giusto muovere la testa per far cambiare la luminosità della lente. Davvero molto molto figo, forse per l'utilizzo strada non è così indispensabile, ma magari per l'utilizzo gravel e mountain bike quando siamo nel sottobosco, quindi quando abbiamo un continuo cambio di luminosità nelle varie fasi di riding potrebbe essere davvero molto molto utile. Purtroppo queste tecnologie si pagano a caro prezzo, perché purtroppo questo occhiale costa ben 380 euro, è un esercizio di stile secondo me, più che un vero e proprio prodotto destinato al pubblico, sicuramente è il primo passo verso questo tipo di tecnologie. Se avete qualche domanda riguardo questi occhiali, se potete trovare tutte le info riguardanti questo solar switch sul sito di POC, vi invito a commentare qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate, e state sempre connessi con me perché arriveranno un sacco di altri video dalla Bike Connection Agency qui di Girona. Noi ci vediamo al prossimo video.